benvenuti o bentornati sul mio canale io sono silvia e in questo tutorial scopriremo come lavorare questa borsa interamente infilato ma con dei laterali super particolari in legno stampato 20x24 cm sono le misure di questa borsa che sicuramente non ci farà passare inosservati grazie a questo punto di lavorazione molto particolare ma estremamente semplice da eseguire e soprattutto questi laterali in legno stampati e tagliate a laser che danno veramente un tocco unico a una borsa da poter utilizzare tutti i giorni in tantissimi contesti ma soprattutto un modello che potrete completamente personalizzare perché questa è solamente una delle tantissime stampe tra cui scegliere per andare poi a replicare questo modello nel tutorial troverete tutte le misure in centimetri vi mostrerò come ho reso più rigido il pannello centrale applicando un supporto in salpa come ho inserito i ponticelli che vedete rimangono nascosti al di sotto della fodera passiamo quindi a vedere tutti i materiali che ho utilizzato e nel box informazioni sotto il video troverete tutti i riferimenti se avete poi dubbi o domande non esitate lasciatemi un commento sotto il video e se questo tutorial sarà di vostro gradimento fatemelo poi sapere con un bel pollice in su i laterali del nostro progetto sono questi due mini pannelli in legno stampati e tagliati a laser realizzati da fungo label questi laterali mini hanno misura 5 x 16 cm e voi potete scegliere questa o una tra le tantissime stampe disponibili sul loro sito in particolare questa è la stampa con il codice w107 andate sul sito scegliete la vostra stampa e poi dal menu specifico potete selezionare il modello al quale applicare la vostra stampa perché oltre a questi mini laterali ci sono tantissimi pannelli in legno che potete utilizzare per le vostre creazioni per quanto riguarda il filato per questo progetto potete utilizzare quello che preferite io ho scelto di usare il tripolino catenella regolar l'intrecci preziosi questa tonalità è acqua il peso della singola rocca è di 350 grammi ed è un 100% poliestere testurizzato lavorabile con uncinetto numero 4 per quanto riguarda l'uncinetto andrò ad utilizzare il numero 3 e il numero 4 perché due numeri differenti il numero 3 mi consentirà di lavorare agevolmente all'interno dei fori presenti sui pannelli laterali mentre per il pannello centrale andrò ad utilizzare l'uncinetto numero 4 per quanto riguarda il supporto interno del progetto potete utilizzare quello che preferite io ho scelto la salpa media che potete trovare sempre sul sito di intrecci preziosi disponibile a rotolo misura 50 per 100 centimetri per forare la salpa e andare poi ad applicarla al progetto andrò ad utilizzare un kit specifico sempre di intrecci preziosi che ho già utilizzato in altri miei tutorial se non avete a disposizione lo stesso kit nessun problema potete forare la salpa con gli strumenti che avete a disposizione avremo poi bisogno di un ago e di un paio di forbici in progetti come questo dove è presente il supporto in salpa l'ideale sarebbe utilizzare i bottoni magnetici con le lette posteriori e farli passare all'interno del supporto in salpa questo gli darebbe maggiore stabilità io purtroppo non avevo quella tipologia di chiusura quindi ho optato per questa che ho direttamente cucito sul mio filato e sopra la fodera ho scelto poi una coppia di micro ponticelli in metallo con alette misura 2 centimetri e per indossare la borsa avremo ovviamente bisogno di una catena all'interno dei vari fori dobbiamo eseguire delle maglie basse in modo da ottenere un risultato omogeneo che cosa vuol dire che le maglie lavorate dovranno avere tutte lo stesso aspetto non dovranno esserci maglie più strette o maglie più morbide come capire quanti punti dobbiamo lavorare all'interno dei vari fori dipenderà dalla nostra mano di lavorazione e dalla tipologia di filato che scegliamo di utilizzare nel mio caso con il filato che vi ho mostrato e l'uncinetto numero 3 ho ottenuto questo risultato eseguendo tre maglie basse nei quattro fori presenti sui lati più tondi del mio laterale e lavorando due maglie basse nei restanti fori ottenendo così un totale di 56 punti ho applicato dei marcatori qui sull'altro laterale per mostrarvi al meglio dove lavorare gli aumenti questi sono i primi quattro fori questi sono gli altri quattro nei fori segnati con i marcatori dobbiamo lavorare tre maglie basse nei restanti fori due maglie basse vediamo insieme questi passaggi cominciamo da un foro qualsiasi tra quelli presenti sul lato lungo del nostro laterale vi entriamo con l'uncinetto e fatto un cappio al nostro filo lo poniamo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso il foro prendiamo il filo e blocchiamo dobbiamo lavorare due maglie basse all'interno dello stesso foro quindi rientriamo nuovamente nello stesso foro prendiamo il filo lo portiamo attraverso ed eseguiamo un punto basso ci spostiamo nel foro successivo dove lavoriamo due maglie basse e lavoriamo due maglie basse nei fori successivi fino ad arrivare al primo foro presente nel nostro angolo dobbiamo lavorare tre maglie basse all'interno dei prossimi quattro fori quindi dobbiamo ripetere i passaggi che abbiamo visto per tre volte rimuoviamo il marcatore e nello stesso foro entriamo per tre volte lavorando tre maglie basse ottenendo questo risultato come proseguire lavoriamo tre maglie basse nei prossimi tre fori che ci si presentano quelli segnati coi marcatori lavoriamo due maglie basse in tutti i fori fino ad arrivare ai prossimi quattro fori presenti nell'angolo qui lavoriamo tre maglie basse all'interno dello stesso foro e proseguiamo con due maglie basse in tutti questi fori fino ad arrivare qui e vediamo poi insieme come completare la lavorazione del nostro laterale lavorata l'ultima coppia di punti bassi nell'ultimo foro disponibile realizziamo una chiusura invisibile utilizzando l'ago allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo sfiliamo e mettiamo il filo su un ago con il nostro ago dobbiamo entrare da dietro qui sotto alle due costine del primo punto completo alla nostra sinistra e portiamo il filo verso di noi torniamo poi indietro all'ultimo punto basso lavorato e questa volta passiamo al centro tra le due costine che lo compongono e portiamo così il filo sul retro del lavoro e lo blocchiamo sotto i punti che abbiamo appena lavorato vado a ripetere gli stessi passaggi sul secondo laterale ovviamente se avete fatto delle variazioni rispetto a quanto vi ho mostrato dovete ripetere le stesse variazioni sul secondo laterale così da ottenere lo stesso numero di punti passiamo al pannello centrale il numero di catenelle che andremo ad avviare andrà ad incidere sulla larghezza del nostro progetto quindi se desiderate un progetto più ampio andrete ad aumentare il numero di catenelle se lo desiderate più stretto andrete a diminuirlo l'importante per ottenere la trama la texture che avete visto nelle immagini di anteprima è andare ad avviare un numero di catenelle pari nel mio caso ho avviato 28 catenelle che con questo filato corrispondono a circa 21 centimetri ho completato le mie 28 catenelle per aiutarvi a comprendere i passaggi successivi sull'ultima catenella che ho lavorato vado a porre un marcatore vado poi ad aggiungere una catenella di supporto e siamo a 29 catenelle aggiungo una seconda catenella in questo caso non di supporto perché va a sostituire il primo punto del giro e siamo così arrivati a 30 catenelle l'ultima catenella che abbiamo eseguito la trentesima va a sostituire il punto che dovevo lavorare qui nella maglia segnata col marcatore devo infatti saltare questa catenella e passare alla successiva vi entro all'interno e vi lavoro un punto basso in questa lavorazione il punto grana di riso andiamo ad alternare una maglia bassa ed una catenella e ogni volta che eseguiamo una catenella dobbiamo saltare il punto sottostante abbiamo lavorato una maglia bassa facciamo una catenella saltiamo la catenella successiva ed andiamo nella seguente dove lavoriamo un punto basso catenella saltiamo un punto sul successivo punto basso catenella saltiamo un punto nel successivo punto basso e otterremo questo risultato dobbiamo proseguire per tutto il giro alternando una maglia bassa ad una catenella ogni volta che facciamo una catenella saltiamo un punto sulla base e andiamo nel successivo dove lavoriamo un punto basso e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare all'ultima catenella disponibile siamo al termine del giro davanti alle ultime due catenelle la penultima la saltiamo perché viene sostituita dalla catenella che abbiamo appena realizzato dopo l'ultimo punto basso e nell'ultima catenella disponibile lavoriamo l'ultima maglia bassa di questo giro i passaggi che vedremo in questo giro sono quelli che poi dovremo ripetere per tutta la lunghezza del nostro pannello realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro in questo giro dobbiamo lavorare sempre la nostra sequenza di punti maglia bassa e catenella ma ogni volta che davanti a noi troviamo un punto basso dobbiamo saltarlo e sostituirlo con una catenella e ogni volta che troviamo una catenella nello spazio che si è formato sotto di essa dobbiamo eseguire un punto basso il primo punto di questo giro davanti a noi è una maglia bassa quindi dobbiamo sostituirlo con una catenella lo saltiamo e andiamo sul punto successivo una catenella di separazione sotto di essa proprio qui vedete si forma un piccolo spazio con l'uncinetto dobbiamo passare sotto la catenella all'interno di questo spazio prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa ottenendo questo risultato il punto seguente è una maglia bassa quindi facciamo una catenella e la saltiamo punto successivo una catenella nello spazio subito sotto questo qui andiamo a lavorare un punto basso questi sono tutti i passaggi di questo giro proseguiamo quindi in questo modo alternando le nostre catenelle ai nostri punti bassi lavorati all'interno degli spazi fino ad arrivare al termine del giro al termine del giro davanti a noi abbiamo questi punti un'ultima maglia bassa e qui a sinistra due catenelle se vi ricordate quando abbiamo iniziato il primissimo giro subito dopo l'ultima catenella di numero pari abbiamo aggiunto una catenella di supporto e una catenella che andava a sostituire il primo punto del giro sono queste qui l'ultimo punto basso verrà sostituito da una catenella rispettando così la nostra sequenza di punti maglia bassa catenelle maglia bassa e ci resta da eseguire l'ultimo punto del nostro giro che sarà un punto basso dove lo dobbiamo lavorare tra l'ultima maglia bassa e queste due catenelle c'è qui un piccolissimo spazio eccolo dobbiamo con l'uncinetto entrare all'interno di questo spazio e lavorare il nostro punto basso e abbiamo così completato il secondo giro di lavorazione rivediamo velocemente i passaggi nel prossimo giro catenella di supporto e voltiamo il lavoro il primo punto davanti a noi è una maglia bassa quindi la andiamo a sostituire con una catenella saltiamo questo punto davanti a noi c'è una catenella che forma un piccolo spazio sotto questa catenella all'interno dello spazio lavoriamo un punto basso davanti a noi c'è un punto basso quindi facciamo una catenella lo saltiamo sotto lo spazio qui della catenella seguente lavoriamo una maglia bassa e proseguiamo in questo modo fino al termine del giro faccio una catenella per sostituire l'ultima maglia bassa che mi si presenta qui davanti a me e qui tra l'ultima maglia bassa e le due catenelle presenti a sinistra c'è un piccolo spazio vi passo al di sotto con l'uncinetto e vi lavoro una maglia bassa e abbiamo così completato i primi tre giri del nostro pannello il primo giro era di preparazione i passaggi del secondo giro sono quelli che abbiamo ripetuto per il terzo e quelli che andremo a ripetere finché il nostro pannello non avrà raggiunto la misura desiderata proseguiamo quindi lavorando in questo modo con questa sequenza di punti giro dopo giro fino ad ottenere un pannello come questo ho lavorato per 67 giri totali raggiungendo una lunghezza di circa 50 centimetri devo ora andare ad eseguire il giro di perimetro nel mio pannello completato il giro 67 realizzo una sola catenella di supporto e volto il lavoro ed inizio il giro numero 68 che sarà anche il mio giro di perimetro in questo caso vado a lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che mi si presenta passando sia sopra le maglie basse e in presenza delle catenelle vado invece ad eseguire il punto basso passando sempre sotto lo spazio davanti a me una maglia bassa quindi lavoro normalmente un punto basso davanti alla catenella scendo nello spazio e proseguo in questo modo lavorando una maglia bassa fino ad arrivare all'angolo opposto come nei giri precedenti lavoro l'ultimo punto basso del giro nello spazio tra le due catenelle e il punto basso dopodiché eseguo una catenella ruoto il pannello e all'interno dello stesso spazio vado a lavorare un altro punto basso maglia bassa catenelle maglia bassa sarà la sequenza dei miei angoli devo ora proseguire lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo opposto passo quindi all'interno di tutti i punti che mi si presentano in questo modo e continuo fino ad arrivare all'angolo opposto l'ultimo punto lo vado a lavorare qui nella catenella nell'angolo lavoro poi la mia catenella ruoto il pannello e nello stesso punto lavoro la seconda maglia bassa e proseguiamo lavorando una maglia bassa all'interno di ciascuna catenella che ci si presenta davanti a noi sono le catenelle con le quali abbiamo avviato il nostro progetto proseguiamo in questo modo fino ad arrivare all'ultima catenella disponibile qui lavoriamo maglia bassa catenelle maglia bassa per formare il nostro angolo ruotiamo il pannello e lavoriamo una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare qui dove abbiamo cominciato il nostro giro di perimetro che andiamo ovviamente poi a concludere insieme siamo nel nostro ultimo angolo dove dobbiamo eseguire la nostra sequenza di punti maglia bassa catenella e maglia bassa la prima maglia bassa l'abbiamo già lavorata e quella con la quale abbiamo avviato il giro di perimetro nello stesso punto ne andiamo a lavorare una seconda per lavorare la catenella allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto dobbiamo tagliare il filo e con l'aiuto di un ago andare a ricreare la nostra catenella così da chiudere il pannello in modo invisibile ma voglio darvi un piccolo consiglio soprattutto se volete già avere del filo a disposizione su questo lato del pannello per andare poi ad eseguire la cucitura del mini laterale mettete da parte un pochettino di filo in più dopodiché andate a tagliare e sfruttate poi questo filo per eseguire la fase di cucitura così su questo lato del pannello non avrete poi dei nodini da nascondere al di sotto della vostra lavorazione vado quindi a tagliare il filo sfilo il tutto entro da dietro sotto ad entrambe le costine della prima maglia bassa del giro di perimetro presente qui alla nostra sinistra e porto il filo verso di me torno poi indietro all'ultimo punto basso lavorato questa volta passando al centro tra le due costine che lo compongono portando così il filo sul retro del lavoro completato il mio giro di perimetro scontorno il mio pannello ha raggiunto queste misure 53 x 21 centimetri come supporto interno al progetto ho deciso di utilizzare la salpa ovviamente potete utilizzare il supporto interno che preferite per il vostro progetto in particolare ho ritagliato un rettangolo di salpa misura 50,5 x 19 centimetri così che la mia lavorazione resti ben tesa e ho già realizzato lungo tutto il perimetro i fori che mi consentiranno di cucire la salpa alla lavorazione all'uncinetto per tenere insieme le parti vado ad utilizzare queste pinzette per tessuto che potete trovare nella mia lista di consigli per gli acquisti amazon nel box informazioni sotto il video e per cucire utilizzo il filo di nylon trasparente la catena che ci consente di indossare il progetto viene agganciata a due ponticelli con alette come questo per renderli più stabili farò passare i ponticelli sia all'interno della lavorazione all'uncinetto sia attraverso la salpa e per fare questo devo ovviamente forare la salpa nella giusta posizione ho preso i pannelli laterali e temporaneamente li ho cuciti alla mia borsa per trovare la giusta posizione per i ponticelli nel mio caso questa posizione corrisponde a queste misure questa è la parte frontale del progetto quella che diventerà la mia patella partendo dal lato corto dal bordo della patella ho forato a una distanza di 13 e 15 centimetri e a circa 3 centimetri e mezzo dal lato lungo del mio pannello ovviamente queste misure le ho riportate sull'altro lato per il secondo ponticello faccio passare il ponticello attraverso la lavorazione all'uncinetto e la salpa in questo modo le alette rimarranno poi nascoste al di sotto della fodera del mio progetto sul fronte del pannello siamo a circa 12,5 centimetri per 2,5 con uno scampolo di tessuto vado a realizzare una fodera a pannello che dovrà ricoprire tutte le cuciture e la salpa prendiamo i nostri laterali e partiamo dal centro di uno dei due lati corti proprio qui da qui contiamo 5 maglie sulla destra e mettiamo un marcatore e 5 maglie sulla sinistra e poniamo un secondo marcatore i marcatori saranno sulla prima e sulla decima maglia di 10 maglie che resteranno libere dalla nostra cucitura infatti per cucire i laterali al corpo della borsa partiremo proprio da qui dalle maglie che abbiamo segnato con i nostri marcatori avevo già lasciato da parte questo filo quando ho completato il pannello centrale ed è proprio da qui che partirà la mia cucitura con questo filo abbiamo realizzato la catenella che ci ha permesso di chiudere il pannello centrale in modo invisibile e il filo in questo momento esce da dietro da qui nella maglia subito sotto la catenella prendiamo il pannello laterale lo accostiamo e dobbiamo passare sotto ad entrambe le costine della maglia che abbiamo segnato col marcatore e sotto alle due costine della catenella presente nell'angolo del pannello centrale passando con il filo davanti ai punti dopodiché sul pannello laterale scendiamo nel punto sottostante e scendiamo nel punto sottostante sul pannello centrale facendo sempre passare il filo davanti ai due pannelli e vedete si forma questo filo in orizzontale torniamo sul pannello laterale sul punto successivo passando sotto ad entrambe le costine e sotto alle due costine del pannello centrale il filo passa davanti ai due pannelli e otterremo questa cucitura con queste linee in orizzontale proseguiamo in questo modo per tutti i nostri punti fino ad arrivare al marcatore successivo l'ultimo punto che andrò a cucire sarà quello segnato con il marcatore rientro poi nuovamente nello stesso punto così da portare il filo verso l'interno della mia borsa e andarlo a bloccare al di sotto della cucitura che ho appena eseguito per cucire il secondo laterale vado a bloccare un nuovo filo nello stesso punto sul pannello centrale facendolo passare al di sotto delle maglie nasconderò poi questa codina e passo dall'interno all'esterno della borsa al di sotto delle due costine che compongono la catenella presente nell'angolo accosto il laterale e con l'ago passo in questo modo sotto alle due costine che compongono la maglia segnata col marcatore e ritorno sotto la catenella quindi procedo dal laterale verso il pannello centrale tornando indietro scendo poi sul pannello laterale sotto alle due costine del punto successivo e sul punto successivo sul pannello centrale vedete che il filo passa davanti pannello laterale pannello centrale il filo passa sempre davanti ed ecco qui la nostra cucitura proseguiamo in questo modo fino alla prossima maglia segnata col marcatore anche in questo caso l'ultimo punto dove vado ad entrare quello segnato col marcatore esco sul pannello centrale rientro nel punto segnato e vado a bloccare il filo al di sotto delle maglie come abbiamo visto sull'altro laterale l'ultimo step nel mio caso prima di agganciare la catena è quello di andare a cucire i bottoni magnetici tramite le quattro alette queste qui presenti sulle due parti abbiamo così creato una borsa sicuramente particolare grazie a questo punto di lavorazione e soprattutto grazie a questi pannelli laterali in legno stampati e tagliati a laser da fungo label vi lascio il link al loro negozio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video ricordandovi che potrete trovare questa e tantissime altre stampe tra cui scegliere spero che questo progetto sia stato per voi un buon spunto creativo e sono curiosa di leggere le vostre opinioni in merito quindi ricordate di lasciarmi un commento sotto il video e se questo tutorial vi è piaciuto perché no un bel pollice in su e se siete alla ricerca di altri tutorial borsa particolari li trovate sempre qui sul mio canale dove se ancora non l'avete fatto e ne avete piacere vi invito ad iscrivervi cliccando sull'apposito pulsante sempre sotto il video con la mia nuova borsa io vi saluto vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube a presto